La Polizia Municipale ha effettuato nella giornata di ieri un'azione di controllo finalizzata alla repressione dell'abusivismo all'interno del mercato Vascone, al via la verifica della regolarità delle licenze e la presenza di eventuali abusivi all'interno dei box. Nel pomeriggio, su esplicita sollecitazione dell'ATM, alla presenza anche del Dipartimento Servizi all'Impresa e del pronto intervento, sono stati poi aperti 5 box per i quali era stata già disposta la revoca della licenza, poiché non venivano pagati i canoni. Gli stalli sono stati riconsegnati nella disponibilità del Comune e verranno messi a disposizione di chi paga il canone di occupazione suolo e possiede una regolare licenza. Nei prossimi giorni gli uffici eseguiranno le verifiche amministrative per revocare le licenze agli operatori abusivi che sono stati trovati dentro il mercato, obiettivo dare risposta ai numerosi operatori regolari del mercato Vascone che pagano il canone suolo e richiedevano da tempo il ripristino della legalità nei confronti di chi abusivamente occupava box intestati ad altre persone. Un impegno mantenuto dunque dapprima con la bonifica delle aree esterne e l'allontanamento di tutti i numerosi abusivi che da decenni stazionavano dal canti al mercato e poi con la razionalizzazione delle licenze anche all'interno della struttura.